Dopo vi pago, non siamo parenti. Allora, sono Pote Eugenia, ho 27 anni e sono ragioniera, sarò breve e concisa. Noi siamo nuovi, siamo nuovi e giovani. Prima di candidarmi col Movimento 5 Stelle, mi sono chiesta se fossi stata all'altezza dell'incarico che mi potrebbe essere dato. Beh, permettetemi di dire che se loro, i politici, i cosiddetti esperti, hanno governato Monteroni sino ad oggi, non lavorando per il bene comune, ma solo per gli amici e per la loro clientela, loro che hanno permesso di cementificare il nostro paese, non pensando invece a creare polmoni verdi indispensabili anche per lo svago dei nostri bambini, loro, i cosiddetti esperti, se lo possono fare loro, allora io non ho dubbi che noi cittadini nelle istituzioni sapremo fare molto meglio. Per una volta, mai come quest'anno, alziamo la testa e diciamo no a quelle persone che vengono a casa promettendo posti di lavoro per i vostri figli che non me li potranno dare perché non me li hanno dati in 5 anni e non li daranno neanche adesso. Quindi, alziamo la testa e riprendiamoci questo paese perché più servizi per tutti, meno tasse per tutti.